Da una parte Belen Rodriguez e dall'altra Chiara Ferragni, sembra proprio che Massimo Boldi sia sempre più attivo sui social tanto da non perdersi mai nessuna foto particolare o di tendenza . Non è la prima volta che Massimo Boldi commenta con fervore la foto di una VIP sui social e se qualche settimana fa era toccato a Belen Rodriguez al grido di sei come il vino, questa volta è toccato a Chiara Ferragni A sconvolgere l'attore è l'ultima foto che la bella Chiara Ferragni ha pubblicato sui social in cui si mostrava stretta in un abito con le stringhe sui fianchi A quanto pare la foto non è sfuggita all'attore che ha subito voluto mettere in evidenza la foto postandola sul suo profilo e scrivendo, chissà se Chiocciola Chiara Ferragni avrebbe tempo e voglia di fare il film di Natale con Chiocciola Massimo Boldi Sarà davvero un'offerta di lavoro quella che Boldi vuole fare all'influencer oppure no? Siamo sicuri che la bella biondina apprezzerà l'interesse dell'attore e c'è già chi sogna il prossimo cinepanettone con Belen da una parte e la Ferragni dall'altra La risposta di Chiara Ferragni arriverà? Solo un sogno o qualcosa di irrealizzabile? Al momento Massimo Boldi è lanciatissimo e dopo il tradimento subito dalla sua ormai ex compagna, sembra davvero pronto ad interessarsi al lavoro e alle avventure Come se questo non bastasse, sui social è sempre molto attivo e in molti lo seguono divertiti per via di questi suoi exploit Adesso si attende con ansia la replica della stessa Chiara Ferragni che di solito non si lascia sfuggire queste cose rispondendo a tono A chi toccherà dire la propria? Sarà l'influencer la prima ad accettare o declinare l'indito o sarà Fedezza a prendere la palla al balzo e rispondere all'attore che ha mostrato la sua fidanzata sul suo profilo? Ecco il messaggio Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like